Sì, grazie Presidente. Io sono anche molto esplicito in questo intervento. Per quale motivo noi stracciamo la delibera presentata da Forza Italia nella consigliatura dove ha governato Alemanno? Per quale motivo? Molto semplice, lo spiego brevemente all'Aula, come già ha fatto comunque greggiamente la consigliera Ficcardi. Quando si presenta il piano d'azione per l'energia sostenibile, oggi il piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, questo piano prevede che tutte le azioni previste appunto nel piano per la mitigazione ambientale e per l'abbassamento di CO2 devono essere raggiunte nell'arco di dieci anni. Oggi nel 2017, dall'anno in cui è stato presentato il PAES, non è stato fatto praticamente nulla, perciò nessuna azione è stata portata avanti da quando è stata approvata quella delibera. Noi oggi abbiamo in soldoni, lo dico con grande semplicità, abbiamo tre anni per poter portare avanti tutte quelle azioni che devono essere portate in precedenza. Di fatto è impossibile. Allora noi siamo obbligati politicamente e amministrativamente, parlando, a dover superare questa delibera, anche perché non facendolo potremmo non aderire al patto dei sindaci. Cosa molto grave e cosa molto seria che influirebbe sull'amministrazione di questa città e sulla visione di questa città che l'amministrazione 5 Stelle ha voluto dare, cioè una visione sostenibile. Perciò noi oggi siamo obbligati a dover presentare una nuova delibera per poter aderire al nuovo patto dei sindaci e di fatto presentare, nei due anni a venire, il nuovo piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima. Anche perché, oltre a questo, il fatto che questa amministrazione oggi è obbligata a fare questo passo, lo fa anche perché il Paes presentato in precedenza, anche con il contributo del professor Rifkin, perciò dobbiamo dire anche un buon Paes, assolutamente, ma che non rispecchia nel suo insieme le linee di indirizzo che questa amministrazione sta dando. Vedete, nella pagina 137 vi è l'indirizzo appunto di dover in qualche modo perseguire la politica dei gasificatori, dei termovalorizzatori. Perciò è una politica che a noi non ci appartiene, che noi detestiamo e che allontaniamo con forza. Noi invece abbiamo inserito nel nostro Paesc, o comunque nella nostra visione, di quello che deve e che dovrà essere il Paesc, il piano per la gestione, il piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo. E il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Ecco, questi due aspetti, focali e centrali, rappresentano per il Movimento 5 Stelle un cambio di rotta, un cambio di passo, una politica indirizzata verso la sostenibilità. Ed è per questo che noi crediamo fermamente nel Paesc, crediamo fermamente nelle politiche energetiche sostenibili, nel risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia. Noi vogliamo portare questa città finalmente a una drastica diminuzione delle emissioni di gas serra, una drastica diminuzione della CO2, delle polveri sottili. Perciò vogliamo applicare nel suo insieme tutta la mitigazione ambientale e con questo vogliamo arrivare alla diminuzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Non è la nostra meta, è un percorso e puntiamo anche a superare questa soglia del 40%. Vogliamo accelerare la decarbonizzazione del territorio, vogliamo garantire a questa città un'energia sicura, sostenibile e utilizzabile da tutti i cittadini. Sicuramente è una sfida importante, è una sfida dove noi come amministrazione locale sicuramente ce la metteremo tutta, ma chiederemo anche il supporto dei municipi, chiederemo anche il supporto della cittadinanza. Perché è da lì che dobbiamo partire, dobbiamo partire da un lavoro congiunto, da un lavoro che viene dal basso e non da un lavoro che viene calato dall'alto. Perciò io oggi sono molto entusiasta di questa delibera, di questa decisione che questa amministrazione sta prendendo. Sono molto entusiasta perché vedo finalmente un cambio di passo, un cambio di rotta, soprattutto grazie all'assessore Montanari che ha nel suo staff il professor Lumicisi, un professore di grande garatura e di grande spessore che si è sempre occupato della tematica del piano d'azione per l'energia sostenibile, per le energie rinnovabili, per l'economia circolare e anche per la resilienza. Perciò io di questo, cari colleghi, ne vado molto fiero. Quando sento parlare e sento dirvi che nella nostra giunta ci sono dei pagliacci o ci sono delle persone che non hanno competenza, questo mi ferisce e mi fa male, perché per la prima volta vedo un'amministrazione pronta e competente per cambiare questa città. Grazie, Presidente.